Questo è anche un sentiero che ci permette di riscoprire, di apprezzare, di essere vicino di poter utilizzare magari dei siti che rischiavano di essere dimenticati quindi credo che il mondo stia cambiando, stia cambiando nella direzione giusta stia cambiando anche nel senso di riappropriarsi dalla nostra identità, dalla nostra realtà di pensare come sia importantissimo vedere il nostro territorio, la nostra gente, la nostra storia con grande affetto